Sono molto entusiasmato con mia figlia quando c'era il confiterario. Anche lui già la mattina si svegliava con gente perché c'era il confiterario e quindi doveva imparare una nuova lettera. Quindi mi entusiasma che poi quando tornavo a casa mi raccontava la storia che avevano studiato con la rispettiva lettera. Quindi molto rinziamo da parte del bambino. Grazie.